La storia di Mary Bell è una di quelle che fa riflettere su un argomento molto interessante. Killer si nasce oppure si diventa? Ciao belli de zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E oggi parleremo di una storia che, ai tempi, era molto conosciuta in tutto il mondo. Sicuramente avete già sentito parlare di Mary Bell, la soprannominata bambina assassina. Praticamente è una di quelle vicende che hanno fatto la storia della cronaca nera del Regno Unito, ma oggi in pochi la ricordano. Quindi cominciamo subito con il file di oggi. Siamo nel 1968, nel Regno Unito. Ci troviamo in un contesto molto distante dal nostro, sia a livello storico che culturale. Ovviamente, ai quei tempi, la tecnologia non era per niente avanzata, nemmeno nell'ambito che interessa a noi, ovvero quello delle indagini. In quest'epoca, anche nel Regno Unito, nelle centrali di pulizia, ancora si compilano pile e pile di documenti a mano. Anzi, molte cose ancora si fanno a mano, con il rischio di sbagliare. O come succederà in questa storia, di interpretare male alcune cose. La protagonista di questo caso è Mary Flora Bell. Mary nasce il 26 maggio 1957 a Newcastle, nel nord dell'Inghilterra. Appena Mary comincia a respirare per la prima volta, cioè il giorno stesso della sua nascita, sua madre, Betty, dice questa cosa ai medici, queste parole esatte. Portate via quella cosa da me. Quella cosa. Cioè chi ama sua figlia quella cosa. Quindi iniziamo malissimo. Betty, la madre, fin da subito appena partorisce, fa capire che non la vuole. Chiaramente, dicendo queste parole. Sua madre, infatti, Betty, ha solo 17 anni e ha concepito sua figlia, Mary, a 16. È una ragazza molto giovane che di mestiere fa la prostituta. Va spesso a Glasgow per gli incontri con i clienti, ed è una di quelle ragazze che non vuole vivere la vita seriamente. Betty è povera, le piacciono le frivolezze, non gliene frega assolutamente niente di avere una figlia, una famiglia, della stabilità. Non gliene frega veramente nulla, perché ha sempre conosciuto un mondo così, frivolo. D'altronde, Betty non sa nemmeno chi sia il padre di sua figlia. Ipotizza che sia uno dei tanti clienti con cui è stata, ma non ne è sicura. E ancora oggi, nel 2023, non sappiamo chi sia il padre biologico di Mary Bell, per dirvi quanto è incasinata questa faccenda. Sappiamo però che un anno dopo la nascita di questa povera bambina, la madre Betty si fidanza con un certo Billy Bell. Quest'uomo dà il suo cognome alla bambina, e basta. Le dà solo il cognome, perché non fa nient'altro. È un uomo violento, alcolizzato, e è proprio un criminale. Non è una figura paterna, né un vero compagno per Betty. Infatti sparisce da questa storia abbastanza in fretta, perché finisce per essere arrestato per rapina a mano armata. È proprio un criminale. E non sappiamo nient'altro di lui. O almeno io non ho trovato alcune informazioni in merito. Quindi chiaramente è un inizio di vita molto turbolento per la piccola Mary Bell. Direi abbastanza disastroso. Sua madre non la vuole. Il padre biologico non si sa chi è. E il padre adottivo è stato arrestato. Tutto questo, poi, come se non bastasse, viene vissuto in un contesto che non si può definire in altri modi se non squallido. Come detto prima, Betty fa la prostituta e non è quasi mai in casa. Non guadagna molto e vive insieme a sua figlia al numero 70 di White House Road, in una città chiamata Newcastle upon Tyne. Ora, sia la casa, sia la strada, sia la zona dove vive e cresce la piccola Mary è davvero malmessa. La sua abitazione è sempre sporca e in disordine. La strada, lì vicino dove abitano, è sempre frequentata da tipi loschi, prostitute, criminali, spaccio. È un posto così. I poliziotti provano ad arrestare di continuo i piccoli spacciatori locali, ma senza molto successo. L'intera zona a quell'epoca è abbastanza trasandata. È molto povera ed è un vero e proprio quartiere trascurato in cui nessuno è davvero al sicuro. Lì, vige la legge del più forte. Se ti fai male, o viene abbandonato, o a nessuno comunque importa. Mary viene lasciata sola a gironzolare tra queste strade marce già dall'età di due anni. Era normale in quel quartiere lasciare i figli così piccoli tutto il giorno da soli in strada a giocare tra di loro, come se niente fosse. Non lo so, altri tempi, altra cultura, molto difficile da capire per noi. Fatto sta che era così, lì. Sua madre Betty, tuttavia, è spesso costretta a portarsela dietro quando deve viaggiare per fare visita a casa dei suoi clienti. E col tempo, Betty trova sempre dei modi per prendersi cura, diciamo, della figlia, Mary, e magari anche lucrarci sopra. Praticamente, allora, dovete sapere che Betty, nel suo lavoro, è specializzata nel sadismo. Quindi esercita pratiche piuttosto violente sui suoi clienti, ok? E praticamente, da quello che sappiamo, pare che questa Betty, quando Mary aveva solo 4 anni, ha cominciato proprio a offrire sua figlia, nel senso a farla entrare in questi giochi che faceva, che non sono giochi, e in questi rapporti che aveva con i suoi clienti. Rapporti, appunto, di violenza. Quindi si ipotizza che Mary, a soli 4 anni, infierisse contro i clienti di sua madre. In altre fonti, comunque, ho letto, invece, che venisse proprio offerta Mary come oggetto, tra virgolette, della... pratica. Non si capisce bene quale sia la dinamica, se Mary infliggeva cose o... Vabbè, non è questo l'importante. L'importante, da sapere qui, è che sua madre l'ha di fatto coinvolta in queste pratiche, che chiaramente dovrebbero essere fatte solo da adulti. E quando è stata coinvolta, Mary aveva solo 4 anni, ripeto. È, come avete visto, una situazione decisamente malata. Tuttavia, Mary è costretta a sopportare tutto questo, anche perché è troppo piccola, non può ribellarsi, non ha gli strumenti neanche per capire cosa stia succedendo e per capire che, oltre a sua madre e a tutto lo schifo che le faceva vivere, fuori c'era un mondo che poteva essere, magari, anche un po' più confortante. Come se non bastasse, col passare del tempo, Betty, peggiora. Le viene diagnosticato il disturbo bipolare e comincia ad ubriacarsi sempre più spesso. Ma la cosa peggiore è che adesso gode nel maltrattare sua figlia. Da quello che sappiamo, per certo, prova ad ucciderla almeno 3 volte. La prima volta, Betty le dà dei sonniferi, quando è ancora troppo piccola, e giustamente la bambina si sente male, ma non muore. E il tutto viene archiviato, tra virgolette, come un incidente. Ha fatto passare il tutto come la curiosità della piccola che si è avvicinata a questi sonniferi, li ha presi, e basta. La seconda volta le dà dei dolcetti avvelenati, e Mary finisce in ospedale, dove le fanno una lavanda gastrica. La terza volta, invece, a quanto pare, prova a buttarla da una finestra. Cioè, la butta fuori dalla finestra. Non prova, lo fa. E Mary, però, sopravvive in un modo o nell'altro, e viene sempre tutto scambiato per un incidente. Cioè, la madre dice semplicemente che Mary è molto curiosa, e molto, insomma, fa casini, e va, esplora, e quindi si fa male ogni tanto. Tuttavia, come potete immaginare, Betty è molto frustrata, anche perché non è morta sua figlia dopo tutti questi tentativi. Cioè, lei vede proprio sua figlia come un peso, come un fardello, da cui non può separarsi. Quindi, la umilia in ogni modo possibile. Le sta troppo sulle scatole, vorrebbe tanto levarsela dai piedi una volta per tutte. E pensate che, una volta, Mary bagnò il letto, e sua madre, Betty, sempre lei, prese la faccia di Mary, la strofinò sul punto che aveva bagnato. Poi, non contenta, stese il lenzuolo sporco, così com'era, senza lavarlo, per far vedere a tutti che sua figlia aveva bagnato il letto. Quindi, un'umiliazione continua, faceva queste cose molto sadiche. Come avete potuto capire anche voi, Betty è davvero una delle peggiori madri della storia. Cioè, io non ho mai sentito parlare di madri così... ...cattive. Anzi sì, una madre peggiore di questa c'è, ed è quella del caso di Henry Lee Lucas. La madre di Henry Lee Lucas era molto peggio di questa. Ne ho parlato nel podcast che ho insieme a Alien Crimeland, che si chiama Red Room, ve lo lascio qui, da qui, da qualche parte. E se no, lo potete ascoltare su Spotify. Tra l'altro, tra poco esce la seconda stagione, state tuned, tra poco esce. Comunque, per farvi capire, questa qui era la situazione familiare di Mary. Per cui, chi dice che Killer si nasce, oh mio Dio. Non penso sia dimostrato né una cosa né l'altra, ovvero che o si nasce o si diventa. Cioè, non è una cosa vera al 100%, né una né l'altra. In questo caso, ci rifletteremo anche dopo, non lo so, non penso sia nata così Mary. Ma torniamo a noi, torniamo alla storia, alla sua storia. Come vi ho detto, l'ambiente in cui vive è povero, privo di stimoli positivi e, invece, ricco di criminalità. Tra bambini, tra i bambini che giocano nella strada, si compete e si gioca fino a tardanotte, senza supervisione, senza controllo, senza che qualcuno si prenda cura di loro, effettivamente. Mary, quindi, non può far altro che crescere secondo la legge del più forte. Lei, ovviamente, odia sua madre e odia tutto quello che, per colpa sua, ha subito. E senza avere mai avuto dei veri genitori, né alcuna persona che le avesse voluto bene davvero, la giovane Mary diventa presto ribelle, intrattabile e arrogante. Nei primi anni di vita della bambina, Betty ha provato ad abbandonarla in un orfanotrofio o, in generale, a darla in adozione. Alcuni parenti, addirittura, hanno persino provato ad adottarla, ma Betty, contraddicendosi, alla fine ha rispinto queste proposte e ha deciso di tenerla con sé. È molto strano questo passaggio della storia, perché, cioè, l'ha sempre odiata, ha sempre odiato sua figlia, ha provato addirittura ad ucciderla, però, quando ha avuto la possibilità di liberarsene, alla fine, perché l'avrebbe data dei parenti, ha deciso di non farlo. Quindi perché? È davvero una contraddizione e ci fa capire quanto Betty sia una madre davvero tanto disturbata. La sua famiglia, a quanto pare, la odia, tutti quanti la odiano, o quantomeno tra di loro non vanno molto d'accordo. Betty vive una lotta interiore tremenda e, chiaramente, nessuno la può aiutare. In tutto questo casino, provate ad immaginare come possa sentirsi la piccola Mary Bell. È odiata, ma voluta allo stesso tempo? E non sa, effettivamente, che cosa fare della vita? Anche se è solo una bambina, ha visto solo cose brutte nella sua vita. Infatti, all'età di soli sei anni, è già una bambina taciturna, isolata, timida e praticamente incapace di capire chi è, cosa vuole, cos'è il mondo esterno. O meglio, sul mondo esterno un'idea ce l'ha, ed è abbastanza chiara. Perché per lei, il mondo è violenza, sofferenza e crudeltà. Per cui, crescendo, pensa, perché se il mondo è così, io devo essere gentile? Giustamente, Mary si chiede, chi sono io? Cosa devo fare della mia vita? A queste domande, purtroppo, risponderà con la violenza. Cercherà un brio per sentirsi migliore. Intanto, continua a crescere, traumatizzata da tutti questi eventi. Anche, pensate, che a cinque anni ha assistito alla morte di una sua amichetta, che era una delle uniche sue amiche. Questa sua amica, davanti ai suoi occhi, è stata uccisa da un autobus. Che passava, è stata investita ed è morta. Quindi Mary è una bambina decisamente sfortunata. E a scuola riversa tutto l'orrore che ha vissuto. Lo riversa con atteggiamenti prima molto più sporadici, poi sempre più frequenti e arroganti e presuntuosi. Ma era comprensibile, se ci pensate. Diventa una bugiarda, fa sempre casini e ha tendenze violente troppo repentine. Cioè, da un momento all'altro, magari un secondo prima è tranquilla che si fa gli affari suoi, e dopo un secondo scatta e comincia a picchiare qualcuno. Calci, pugni, così, senza motivo. Questo atteggiamento chiaramente la allontana da molti compagni di scuola, facendola sentire ancora più sola di quanto già non fosse. Per tutti questi motivi diventa intrattabile e direi una vera e propria bulla. Ma una bulla furba e intelligente. Ed era solo questione di tempo prima che trovasse una sua coetanea da usare un po' per i suoi scopi. Come fanno un po' tutti i bulli, alla fine trova una sua sguerra, diciamo. Una sua sottoposta. Questa bambina si chiama Norma e ha due anni in più di Mary. Ma questo divario di età non importa, perché Norma viene completamente assorbita nella vita di Mary. Cioè, diventa proprio il suo cagnolino. Le due diventano inseparabili. Più che altro, Norma segue Mary davvero ovunque, fa tutto quello che le viene detto, eccetera, eccetera. Tra l'altro questa Norma ha anche lo stesso cognome di Mary, quindi Belle. Norma Belle e Mary Belle. Negli anni si è chiacchierato di una loro presunta parentela, ma in realtà sembra essere solo un'enorme coincidenza. Il fatto che abbiano lo stesso cognome. Poi tanto Mary ha preso il cognome da quel Billy che non era neanche suo padre, quindi non c'è una parentela. Norma comunque è una ragazzina senza spina dorsale, senza obiettivi. Mentre Mary, anche lei senza obiettivi, chiaramente, però ha più carattere. È più sfrontata. E Norma ha bisogno di qualcuno che prenda le decisioni al posto suo, che la faccia sentire importante, parte di qualcosa, ma sempre al secondo posto. Mary sa quello che vuole alla fine, vuole fare del male, vuole riversare il suo odio verso gli altri. E di riflesso, lo vuole anche Norma. Quindi le due più si conoscono, più escono insieme, più diventano delle teppiste già all'età di dieci anni. E anzi, vanno persino oltre, troppo oltre. L'11 maggio del 1968, infatti, Mary ha dieci anni e Norma ha dodici. Le due prendono di mira un bambino di nome John, di soli tre anni. Lo portano con l'inganno in un negozio, ma poco dopo le due amiche lo portano in un pub e dicono che il bimbo aveva una ferita alla testa e perdeva sangue. Spiegano, mentendo, di averlo trovato davanti ad alcuni vecchi capannoni nelle vicinanze. Quindi la polizia arriva e arriva anche l'ambulanza. Viene decretato che il piccolo John era caduto da una sporgenza e si era fatto male. Era ancora vivo e nessuno ha sospettato di Mary e Norma. Ma ora sappiamo che erano state loro a fargli del male. Effettivamente, John era caduto da una sporgenza, ma perché lo aveva spinto Mary. Però purtroppo non si fermano a fare solo questo. Praticamente il giorno successivo succede un altro avvenimento spiacevole. Tre bambine che stavano giocando tranquille, indisturbate, vengono attaccate da Mary così, senza motivo. Completamente a caso. Mary si scaglia su una di queste tre bambine, inizia a strangolarla e comincia anche a ficcarle in bocca alla sabbia in cui stavano giocando. Avete presente quelle cose di sabbia finta in cui giocano i bambini? Ecco, inizia a mettere tutta la sabbia in bocca e poi da un momento all'altro smette e passa a un'altra bambina e gli fa la stessa cosa. E poi passa anche alla terza, però a questa comincia a strangolarla con ancora più ferocia, talmente tanto che questa terza bambina diventa viola in faccia. Segno che se Mary avesse continuato sarebbe finita male. Tuttavia in qualche modo la vittima riesce a liberarsi e quel giorno non muore nessuno. Ma i segni di questa aggressione rimangono, ci sono. E la mamma di una delle tre va subito alla polizia per denunciare l'accaduto. Ma da quel che sappiamo, anche questa volta, né Mary né Norma subiscono ripercussioni per ciò che era successo. Quindi passa altro tempo e le due ragazzine, due bambine, sono indisturbate e libere, fanno quello che vogliono. Arriviamo quindi al 25 maggio del 68, giorno in cui arriva la prima vera vittima. Si chiama Martin Brown e ha solo 4 anni. Martin è un bambino bellissimo, vivace e creativo. Pensate che una volta voleva una piscina nella sua cameretta e se la creò da solo riempiendo un cassetto d'acqua. Un cassetto del comodino. Al di là di qualche casino del genere, tutti lo adorano. Abita con sua sorella Linda, sua madre June e suo padre Georgi. Quel sabato 25 maggio il piccolo si sveglia alle 6.30 del mattino, come sempre. Tutti in casa stanno ancora dormendo perché nel weekend tutta la famiglia si sveglia più tardi del solito. Così, silenziosamente, scende in cucina, prende del latte e dei biscotti e torna su in camera per condividere la colazione con sua sorella Linda. Alle 9 del mattino i genitori si svegliano e lui intanto è già uscito a giocare per il quartiere senza alcuna supervisione, ma come vi ho detto era normale, tra virgolette. Diciamo che era permesso, purtroppo. Era visto, normalmente, questa cosa qui di lasciare i bambini. Vabbè. Alle 15 Martin va a casa di una sua zia per chiederle dei soldi così da potersi comprare un lecca-lecca. La zia gli dà i soldi, lui va alla drogheria più vicina, compra il lecca-lecca e se ne va. Dopodiché, nessuno l'ha più visto. Alle 15.30, tre ragazzi sono nei pressi di uno dei tanti edifici abbandonati in quel posto. Queste strutture sono frequentate dai ragazzini per giocare, raccogliere pezzi, fare casino, distruggere cose, ok? Questi tre ragazzini salgono al secondo piano di uno di questi edifici e fanno una scoperta terribile. Trovano il corpo di Martin, riverso a terra, a pancia in su. Ha le braccia tese ed è in una pozza di sangue. I tre ragazzini chiamano degli operai che stavano lavorando lì in strada e gli fanno venire lì, gli mostrano il corpo. Quindi chiamano l'ambulanza che arriva alle 15.35. I medici provano a rianimarlo, ma ormai è troppo tardi. Il piccolo Martin è deceduto. Non ci sono segni di strangolamento o altre ferite che possano far pensare ad un attacco esterno, ma c'è una confezione di aspirina nelle vicinanze. I detective pensano che il bambino abbia provato a mangiare quelle pillole credendo fossero caramelle. E forse pensano che sia per quello che è morto. Gli fanno un esame per cercare di capire che cosa fosse successo, ma non riescono a stabilire la causa della morte. Ricordiamoci che siamo alla fine degli anni 60. Oggi è praticamente impossibile non determinare la causa di un decesso. Al tempo invece succedeva. Quindi gli agenti pensano semplicemente che il piccolo abbia sbagliato ad ingerire quei farmaci e il tutto viene classificato come un incidente. Una morte naturale. Quattro anni in un edificio abbandonato e con delle medicine vicino a lui. Morte naturale. Comunque, purtroppo, si teorizza che la sua morte fosse dovuta anche alla pericolosità di questi edifici abbandonati. Tanto che la comunità locale insorge con proteste varie al fine di demolire questi posti marci e decadenti per fare in modo che nessun bambino ci si avvicinasse mai più. Cioè, in sostanza, la gente del posto ha dato la colpa di questa morte agli edifici abbandonati che erano lì. E in tutto questo delirio, Mary e Norma Bell se la ridono. Godono per tutto quello che hanno scatenato. Chiaramente sono loro le responsabili della morte di Martin. Anzi, Mary è quella che effettivamente ha tolto la vita al piccolo. Norma si era limitata, tra virgolette, a fare da complice. Ma sì, sono state loro. E Mary si diverte un sacco a vedere che non la stanno cercando. Che hanno dato la colpa a qualcos'altro. Pensate che il giorno dopo il ritrovamento, Mary festeggia il suo undicesimo compleanno a casa di Norma e prova a strangolare la sorellina di Norma. Il padre però a un certo punto interviene, le separa, ma non dà troppa importanza alla cosa. Sembra assurdo, ma all'apparenza per queste persone, era tutto un gioco. Un gioco un po' violento. Ma l'intero quartiere era violento. Quindi, perché preoccuparsi se una ragazzina strozza un'altra ragazzina, no? Mary, in tutto ciò, è felice di aver ucciso. Anzi, è proprio euforica. E vuole farlo ancora. Il 27 maggio 1968, un asilo nido del posto viene preso di mira da qualcuno. Uno o più persone, sconosciute, sono entrate in questo asilo e hanno messo a soccuadro tutto. Non è stato rubato niente, ma molte cose sono in disordine o addirittura rotte. Il o i colpevoli hanno lasciato dei biglietti. In uno c'è scritto Negli altri ci sono scritte frasi simili e sono tutti insulti verso i gnoti o verso i detective. La particolarità di queste lettere è che sono piene di errori grammaticali. E anche lo stile di scrittura è molto goffo e disordinato. Come se li avesse scritti un bambino. Questa irruzione all'asilo nido è evidentemente collegata alla morte di Martin, ma per gli agenti no. Si tratta solo di qualche brutto scherzo, di qualche vandalo. Cioè, è assurdo ragazzi, non ho la più pallida idea di come abbiano potuto pensare una cosa del genere, vabbè. Intanto, Mary, con la faccia tosta, va a casa dei genitori di Martin per chiedere come stanno. E una volta che glielo chiede ai genitori di Martin, scoppia a ridergli in faccia. E dice inoltre a questa povera famiglia che non vede l'ora di vedere Martin nella vara. Al che la cacciano via, giustamente. E al funerale del bimbo, lei e Norma, Mary, Belle e Norma Belle, vanno, si presentano e sono felici. Ridacchiano, come se fossero ad una festa. E ancora nessuno sospetta di loro. Era troppo strano, in effetti, che due ragazzine avessero fatto qualcosa del genere. Purtroppo, comunque, tutta questa storia gasa troppo Mary. Si diverte troppo, come mai aveva fatto prima in vita sua. E giustamente se c'è qualcosa che le piace, vuole continuare a farla. Così arriva la seconda vittima del caso. Brian Ho. È il 31 luglio 1968. Brian Ho è un bambino di soli tre anni. Quindi ancora più piccolo della vittima precedente. Quel giorno viene visto giocare con il suo cane nella stessa via in cui abitava Mary. Quella via piena di criminali. Anche questa volta nessuno si interessa troppo al fatto che ci sia un bambino di tre anni che sta giocando fuori, in mezzo alla strada, così, da solo. Ma vabbè, era normale lì, ormai lo sapete. Ad ogni modo, verso sera, i suoi genitori lo richiamano in casa per la cena. Ma lui non fa ritorno. Quindi si preoccupano, cosa strana, perché cazzo, non vi siete preoccupati per tutto il giorno. Vabbè. Si preoccupano, cominciano a cercarlo ovunque nel quartiere. E vengono aiutati anche da altri genitori, volontari. Insomma, è una ricerca disperata. Una ricerca disperata contro il tempo. Perché, come sapete, quando un bambino così piccolo scompare, ogni secondo che passa può essere fatale. C'è tensione e preoccupazione nell'aria e Mary e Norma sono lì, nel gruppo dei volontari, che fingono di aiutare a cercare Brian. Però cantano, ballano, ridacchiano, anche questa volta. E anche questa volta nessuno si fa delle domande. Alle 23 e 22 trovano finalmente qualcosa, ma è una cosa bruttissima. Trovano il corpo di Brian, ricoperto da erbacce, in un terreno isolato non troppo lontano da casa sua. Questa volta non ci sono pillole o palazzi pericolanti che possono depistare. Questa volta si capisce al volo, finalmente, che è stato compiuto un tremendo e disgustoso omicidio. Brian presenta diversi lividi e graffi intorno al collo. È stato strangolato e dalla sua bocca fuoriusciva del sangue. Durante un esame del corpo si scopre che tutti questi tagli e ferite sono il risultato di un gioco brutale. Praticamente il colpevole lo ha graffiato senza un ordine preciso, così un po' a caso, come se avesse giocato a torturarlo mentre lui si difendeva. Viene appurato che era deceduto tra le 15.30 e le 16.30. Il colpevole gli ha addirittura tagliato le parti intime. Brian ha diverse ferite poi superficiali alle gambe e ha i capelli tagliati. Un dettaglio ancora più macabro, ha anche una M incisa all'altezza dello stomaco. Dal modo in cui era stata fatta si è scoperto che prima doveva essere una N, ma poi è stato fatto un ulteriore taglio per creare la M. M-D? Di chi potrà mai essere questa M? Mary Bell forse? Ovviamente sì ragazzi, è stata lei. Noi ora lo sappiamo, ma come ci sono arrivati i detective? Intanto si pongono molte più domande rispetto al delitto precedente, data anche la sua efferatezza. Notano che nonostante tutto la forza esercitata per togliere la vita al piccolo Brian è stata molto poca. Cioè da quello che scoprono il colpevole potrebbe essere stato un ragazzino, non per forza un adulto. E già questo è un primo segnale di avvicinamento a Mary. Allora fanno degli interrogatori a tappeto, a mille adulti e a 1200 bambini tutti della zona. Ai genitori di questi 1200 bambini e ragazzini danno una sorta di questionario da compilare. E naturalmente in questa operazione ci sono di mezzo sia Mary che la sua amica Norma. E per gli investigatori, finalmente, le due sembrano davvero sospette. E questo perché sia le dichiarazioni di Mary che quelle di Norma cambiano spesso. Si contraddicono e rispondono in maniera evasiva ad alcune domande. Inoltre anche davanti agli agenti in sede di interrogatorio ogni tanto ridono quando si parla delle vittime. È Mary quella più sospetta in realtà ed è solo questione di tempo prima che gli investigatori giungano alla verità. Dopo divagazioni varie Mary racconta agli agenti qualcosa di più. Parla di un ragazzo che aveva visto nei pressi della scena del crimine che aveva in mano un paio di forbici. Quindi procede a descrivere esattamente ogni minimo dettaglio e particolare di queste forbici. Peccato però che l'esistenza delle forbici non era stata annunciata al pubblico. Era un'informazione che potevano conoscere solo la polizia e l'assassino. Infatti questo presunto ragazzo misterioso non c'entra niente con l'omicidio. Inevitabilmente i sospetti attorno a Mary crescono sempre di più. Queste forbici sono state usate per inferire molte ferite alla vittima. Quindi come faceva lei a conoscerle così bene? A questo punto i sospettati rimasti sono solo lei e Norma. E proprio quest'ultima sarà quella che confesserà. Ci è voluto un po' di tempo prima che si arrivasse alla verità perché anche lei ha mentito e ha divagato parecchie volte in parecchi interrogatori. Alla fine nella sua dichiarazione ufficiale dice che quel giorno venne invitata da Mary per vedere il cadavere del piccolo Brian. Lee le disse di averlo soffocato e le mostrò i segni delle ferite. Le fece vedere anche un rasoio usato per questo delitto e infatti Norma per provare la sua testimonianza porta i detective a vedere questo rasoio nascosto nella scena del crimine e che non era ancora stato trovato. Norma dice la verità, porta gli agenti lì, trovano questo rasoio e conferma così agli agenti che Mary ha ucciso Brian. Quindi in piena notte la polizia va a casa di Mary Bell e l'arresta. Lei si mette subito sulla difensiva minacciando di chiamare un avvocato e la situazione sinceramente fa abbastanza ridere, cioè immaginate un undicenne che viene arrestata per omicidio e minaccia di chiamare il suo avvocato, cioè vabbè. Fatto sta che sia Mary che Norma vengono tenute in cella per altri interrogatori, perché in realtà a parte le testimonianze non è che avessero tante prove per incriminarla. Mary però conferma le morti che ha causato, ma attribuisce la colpa a Norma. Secondo ciò che dice è stata Norma fare tutto, e viceversa Norma dice che è stata Mary. Quest'ultima versione dei fatti alla fine si dimostra quella più verosimile, per cui si procede alla ricerca di una prova concreta, e finalmente la trovano. Confrontano la calligrafia di Mary con quella dei bigliettini ritrovati dopo il colpo all'asilo. Vi ricordate? I bigliettini che avevano lasciato all'asilo nido in cui avevano fatto un casino, ecco. Le due scritture combaciano. Ma non finisce qui perché a casa sua trovano una sorta di storia scritta da Mary subito dopo l'omicidio di Martin. Sotto il testo c'è anche un disegno che raffigura la scena del crimine in modo molto dettagliato, condisegnati anche i medicinali trovati vicino al corpo. E proprio questa cosa dei medicinali la potevano sapere solo i tre ragazzini che hanno trovato il corpo, gli operai che hanno chiamato l'ambulanza, la polizia e l'assassino. Perché si tratta di un altro dettaglio che non era stato rilasciato al pubblico. Poi per non avere ulteriori dubbi trovano anche delle fibre sospette nei vestiti di Mary, fibre collegate ai vestiti delle vittime. Insomma queste e tante altre prove sono una conferma più che sufficiente per pensare alla colpevolezza di Mary. Ormai ci sono abbastanza dettagli da dare inizio a un processo. In aula, per quel tempo, siamo davanti a un caso senza precedenti. Non si era mai vista una killer così giovane. Ci si chiede come sia stato possibile arrivare fino a questo punto. Da ciò che emerge da tutta questa vicenda, assurda, possiamo facilmente dire che Mary Bell fosse un soggetto psicopatico. Il fatto di aver subito a b**** da bambina e aver avuto un'infanzia molto tormentata ha senza dubbio influito su ciò che ha fatto e su ciò che è diventata. Le è sempre mancata una figura materna stabile e anche una figura paterna. La sua giovane vita è quindi stata resa molto dura anche dall'assenza dei suoi genitori. Il contesto poi ha fatto il resto, forgiandola e plasmandola in modo irreversibile. Si pensa perciò a cosa sarebbe successo se fosse nata da un'altra parte, se fosse cresciuta con altri genitori e se fosse cresciuta anche in un posto normale. E quindi vi faccio una domanda a voi. Secondo voi, se appunto Mary avesse vissuto in questo modo, avrebbe comunque ucciso? Cioè ce l'aveva dentro di sé, dalla nascita? Oppure è stato proprio il suo passato a renderla così? Il suo passato e il contesto? Norma, anche lei, viene considerata come instabile mentalmente, ma solo perché era sotto l'influenza dell'amica. Viene quindi ulteriormente accettato che lei in realtà non fosse stata veramente complice negli omicidi. Per cui vista solo come una co-cospiratrice inconsapevole, viene dichiarata non colpevole. Completamente assolta. Perché era troppo succube di Mary. A Mary invece spetta un destino diverso. Il suo processo dura un attimo e Mary Bell viene condannata all'ergastolo per doppio omicidio volontario il 17 dicembre del 68. E viene anche affidata a cure psichiatriche. È ritenuta psicopatica per cui inizia a scontare la condanna in un riformatorio prima di essere trasferita in una vera e propria prigione. Dopo alcuni anni però la sua pena viene commutata in 12 anni di carcere, in quanto minorenne. E così, dopo 12 anni di carcere, viene rilasciata. Viene rilasciata nel 1980 all'età di 21 anni. Lo Stato le garantisce l'anonimato e così si è potuta permettere di iniziare una nuova vita da un'altra parte. Questo perché dal suo arresto fino alla sua scarcerazione, Mary è stata, ed è sempre stata, odiata da tutti. Perciò per paura di ripercussioni le hanno concesso di essere una nuova persona. Le hanno concesso di trasferirsi, di cambiare nome, eccetera eccetera. E per molti anni ha fatto proprio questo. Sappiamo che nel corso del tempo Mary è cambiata e in meglio. Ovviamente niente cancella tutto ciò che ha fatto. Ma sembra essersi resa conto che era sbagliato. Ha capito che cos'è l'empatia. A quanto pare ora ha un compagno e una figlia. Nata nel 1984. Sappiamo anche che ha vissuto con la sua piccolina nel South Norwood. E sappiamo tutte queste cose nonostante l'anonimato perché qualcuno un giorno l'ha incontrata e l'ha intervistata. Più precisamente un reporter ha scoperto sua figlia. E da lì ha scoperto anche Mary e il suo compagno. La bambina non sapeva niente del passato di sua madre e né di essere parte di un programma d'anonimato. Quindi potete solo immaginare l'orrore che ha provato nello scoprire di essere figlia della famosa assassina Mary Bell. Deve essere stato un trauma abbastanza atroce anche per lei. E a Mary Bell questa cosa non è andata affatto bene. Voleva essere una madre migliore. Voleva essere quella madre che lei non ha mai avuto. Quindi si è arrabbiata. E nel 2003 ha vinto un'importante battaglia legale. Ha ottenuto un nuovo anonimato sia per lei che per la figlia. E non solo. Questo anonimato è stato esteso per tutta la loro vita. Ma dal 2003 in poi non sappiamo più niente. Solo una fonte sostiene che oggi Mary Bell è felicemente nonna. E qui devo dirvi che sia la cronaca che l'opinione pubblica non presero per niente bene la notizia della protezione da parte dello Stato. Questa cosa dell'anonimato e del fatto di permetterle di cambiare vita. Nel Regno Unito infatti ogni ordine per la protezione dell'anonimato a vita viene definito con l'appellativo di Mary Bell Order. Proprio a causa della sua vicenda. Ma alla fine tutto si è concluso così. Mary legalmente ha pagato per i suoi errori e da quello che sappiamo è diventata una persona migliore. Ma chi lo può dire con certezza? Cioè a causa di questo suo eterno anonimato tutti hanno smesso di interessarsi alla vicenda. Ci sono però molti video e articoli online che ne parlano ancora perché obiettivamente è una storia interessante. Che fa molto riflettere appunto sulla domanda che vi ho fatto all'inizio. Killer si nasce o si diventa? Questa storia appunto secondo me dimostra che ci si diventa o almeno nel suo caso sembra essere stato così. E niente io spero che qui sotto faremo tutte le nostre riflessioni perché trovo che sia un caso veramente interessante e che apre molte porte a varie discussioni. Vi aspetto qui sotto e intanto ai pochissimi che rimangono fino a qui anticipo che presto parleremo di una persona che ha soggiornato in un hotel che sicuramente conoscete a Los Angeles. Non vi dico nient'altro, me lo chiedete anche questo da quando ho aperto il canale quindi finalmente ne parlerò. Quindi spero che rimarrete nei paraggi per cui se vi ho incuriositi non dimenticate di massacrare i pulsanti iscriviti. E adesso parlo con te, sì proprio con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare ti consiglio questa storia da brividi oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo. Vi ricordo infine di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao!